Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hanzamaynina argomentiasi misca ha Ooreiba anusamaynina qaybti todabat Shalabin lael kerim ina wahibadan kawda faiduntina omlaena Ambilabana a shirkaina Teda ke laip video gul laik no sara asabtini ke la lawadaaga Adia da uman sentin La corsia di accelerazione serve per abbandonare la carreggiata dell'autostrada Ed entrare in un'area di sosta La corsia di accelerazione La corsia di accelerazione Accelerazione serve per abbandonare La carreggiata dell'autostrada Ed entrare in un'area di sosta Corsia di accelerazione Per entrare Innazitutto falso Corsia di accelerazione per entrare Per entrare autostrada Non uscita Abbandonare Abbandonare Il segnale raffigurato lungo le autostrade viene posto a distanza di 150 metri dall'area di servizio Bermia No, falso E' saluto E' un segnale di dare precedenza I semafori in figura regolano l'ingresso sul pontile d'imbarco di navi traghetto Corsia di accelerazione per entrare autostrada Corsia di accelerazione per entrare autostrada Può essere Appinato ad un incrocio Può essere Appinato ad un incrocio Regolato da semaforo Ma il semaforo Qui ha lo scusa E' una cosa Ma è vero Perché E' la maggior parte C'è semaforo Il segnale raffigurato indica che la strada che si incrocia è a senso unico verso sinistra Il segnale raffigurato indica che la strada che si incrocia è a senso unico verso sinistra Anche Bermia Se la strada di obbligo alla segnale di obbligo svoltare a sinistra Non senso unico Falso La striscia bianca discontinua in figura può essere sostituita da una serie di chiodi per segnaletica stradale La striscia bianca discontinua in figura può essere sostituita da una serie di chiodi Ci sono specchi e la strada per scuotare L'autovehiculo è un veiculo a motore con non meno di quattro ruote l'autoveicolo è un veicolo con il motore o il motore con non meno di quattro ruote eccetto i quadricicli il quattricicli non è un autoveicolo il segnale raffigurato comporta di moderare la velocità i segnali luminosi in figura sono semafori percorsi e reversibili i segnali luminosi sono semafori percorsi e reversibili non è semafori percorsi e reversibili ma semafori percorsi davvero corsi e reversibili secondo me è falso l'autocarro è un autoveicolo l'autocarro è un autoveicolo l'autocarro è un autoveicolo è un autoveicolo l'autoveicolo è un autoveicolo l'autoveicolo è un autoveicolo il segnale raffigurato preannuncia il diritto di precedenza nei sensi unici alternati l'autocarro è un autoveicolo l'autocarro è un autoveicolo il segnale raffigurato consente l'accesso ai motocicli il segnale raffigurato il segnale raffigurato il segnale raffigurato se non consente l'accesso ai motocicli ai motocicli che si può dare in un autoveicolo falsissimo è perché non possono entrare invece si può uscire lì ok allora il marciapiede è una parte della strada al di fuori della carreggiata destinata alla circolazione dei pedoni il segnale raffigurato indica un passaggio alto 3,50 metri il segnale raffigurato indica un passaggio alto 3,50 metri allora ho una fregatura perché i veicoli che possono entrare lì è la loro altezza un passaggio alto secondo me è falso il segnale raffigurato consente la sosta ai veicoli adibiti al pronto soccorso non in servizio in presenza del segnale raffigurato non è necessario rallentare se la cunetta presenta visibilità l'isola di traffico è una parte della strada sulla quale è vietato il transito dei veicoli in presenza del segnale raffigurato è importante prevedere eventuali sbandamenti dei veicoli provenienti dal senso opposto in presenza del senso opposto il segnale raffigurato preannuncia di arrestarsi al prossimo incrocio e dare la precedenza a destra e da sinistra il segnale raffigurato preannuncia il pericolo di caduta in acqua il segnale raffigurato preannuncia il pericolo di caduta in acqua in acqua il segnale raffigurato preannuncia un cavalcavia il segnale raffigurato vieta il transito alle trattrici agricole le strisce gialle in figura delimitano un'area riservata al carico e allo scarico di merci il segnale raffigurato è un segnale d'obbligo il segnale raffigurato preannuncia corsie di accelerazione a destra e a sinistra corsia di accelerazione a destra e a sinistra no? non è corsia di accelerazione ma ha una strada di minore importanza il semaforo in figura con luce gialla fissa accesa consente l'attraversamento dell'incrocio se lo si è già impegnato l'alleggero ok? il semaforo in figura semaforo che amicicano sono un collice gialla fissa non ne ha un problema che ci staaca o dall'indicazione consente che uno accumulare l'attraversamento dell'incrocio dell'incrocio e dell'incrocio se lo si è già impegnato di essere già incroccato, eccemente quando ti è messo una striscia di utilizzo devi scomprere perché non sto spiegando di eccellenza ma troppo muro che lo facciano la doppia striscia continua in figura è di colore azzurro nei parcheggi a pagamento colore azzurro non mai succederà falsissimo il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di una pista ciclabile a fianco di un percorso riservato ai pedoni a fianco è falso è vero che è una pista ciclabile quando il vigile si dispone con le braccia aperte verso la nostra direzione come in figura non si può svoltare a sinistra "'Catricomberato hacia posto la flora di un prog PSO o niente ae conny attrafficillare ae con una conc 있어요 california e e e e a mosaica c'è il n bòsù che ha a perdiccio aè ae con i5 e bòsutata di un progb aè la n straight Cantonese non si a portal c'è a con i5 di un progb aè la c'e anca aòa con un progb aè la raffigurato in figura la c'è un progb aè mì ae l'or e ae l'or il d'or il hao web l'e che suposto di un progb aè la chan d' protectorna d' protectorna aилu a occasions Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo. Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo. Vero. Quando il segnale raffigurato è un segnale di obbligo. Ok? En un segnale 8 s dobbiamo! 8 s dobbiamo! 8 d d d d di continuo! 8 d d d di continuo! grazie a tutti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh